Retroscena Mourinho, rincorre Zlat nell'ecco le sue parole furiose. Al fischio finale di Roma Feyenoord, dopo aver esultato con i suoi giocatori e con tutti i 70.000 dell'Olimpico. Josie Mourinho ha imboccato il tunnel degli spogliatoi dove ha incontrato subito Zlat. L'allenatore del Feyenoord. I due non si sono dati la mano e Mourinho urlato al collega, respect. Respect. Zlat lo ha guardato male e non ha replicato. Virgola.